download facciamo finta che iniziamo adesso quella parte lì non la ricarico esatto vediamo se va non c'è bisogno eh no sto perdendo un casino di rosa non so perché aspetta che tolgo roba che può dar fastidio vediamo disconnettiamoci dall'altra parte però aspetta non è che steam mi ha fatto partire qualche sì c'è un aggiornamento vaffanculo smite ma vaffanculo ma infatti l'avevo installato perché tempo fa me l'avete chiesto ok ora andrà scusate ragazzi 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 buonasera signorina sono il re della cantina e tiri 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 adesso ci siamo ancora davvero e siamo veri adesso ci siamo siamo veri e siamo belli e anche belli caldi tu sei caldo non sei caldo no io sto morendo dal freddo in verità ma come potete vedere siamo tornati su raiman non mi ricordo mezzo tasto non me lo ricordo bravissimo e invece sono sotto un copertone proprio non della macchina però un piumone mamma mia anch'io è caldissimo proprio mamma mia ebbè cosa ci raccontate stasera? che ci raccontate di bello? che ci raccontate? facevo il terrone facevo ho capito senza affesa per i terroni ma per i terroni si per le terroni no dai senza affesa che quelle della bassa sono gnocche quelle della bassa? si no signor wasabi cosa dice? che non ci sarà e basta che stronzo scusa don cuzzo ti ho offeso sono troppo surrido non è don cuzzo è don cuzzo scusami ho visto devo correre devo correre devo correre niente potevi caricarlo qui il colpo? si vedi come come lo carico bene che saltella e poi spara un loom leggermente più largo esatto e basta perché che palle ste cose che non vengono fatte bene che crollano dimmi te dove? a noi ci sta ancora maniche corte eeeh dove? chi? chi l'ha detto? in africa stai eh probabile zpac zpac è in africa? dici? buonissimo corno mi fa male il culo stasera perché normalmente si però è un simpatico eh si oggi oggi sono un fire oggi non mi ferma nessuno siamo pochissimi siamo e facciamo quello che ci pare eh si il liquido è dal nicollo l'altro ho scoperto che ci sono dei liquidi ispirati ai videogiochi c'è un liquido che si chiama assassin cream ma va figata sono tutti simpatici sono tutti incredibilmente simpatici aspetta che mamma mia aia sono morto sono morto però ho aperto la scatola dice che funziona comunque comunque quelle lì non sono ragnatelle te lo dico no facciamo così e cosa sono moro dici tu che sai un po' di sbù ah dici dici cosa devi fare con quel barile ubriacone eh devo volare no ho sbagliato e l'ho lanciato ma sei proprio mago sono mago sei stupido allora eh si ti ho detto che sono morto tu non mi ascolti tu ascolti solo quello che vuoi eh eh si ma guardate adesso sei caduto come un piano ho visto adesso la cassa stai scattando la pasta sta scattando non mi adesso non ce l'ha affasta se era internet stiamo per voi non lo sapete ma è tutto anzi un paio di giorni che stiamo continuando ad andare a destra a sinistra su ts vari perché scatta tutti lagga merda qualsiasi cosa anche ieri da ieri da ieri che mi va di merda quando sono fatto lo speedtest appena adesso c'ho un mega e7 di download no di upload di download di upload sarebbe anche tantissimo ma meglio di streaming hd vuoi anche morire dai mori ma allora dai mori ma guarda ma stronzo moro tu sei bello e carino ah vedi diciamo e prima tu non sei male dai grazie e niente torniamo sulle ragnatele ma cosa ci dicono le nostre le nostre e i nostri cari visualizzati io volevo dire i nostri però mi è venuto le nostre e quindi stasera ci sono solo maschi nella nostra chat che palle chiudila allora non serve chiudiamo tutto che palle e niente ci vediamo domani grazie per essere passati no comunque ripetetemi chi viene chi viene che sono io chi viene alla games week che sono curioso io io ma moro noi dormiremo nello stesso letto no non è vero perché io dormo non è vero tu dormi con marco che mi ha tradito che ti ha tradito ti tocca esprit no io dormo con l'altro marco vabbè esprit te lo mettiamo nello stanzione delle scope è che ho visto che è là attaccala dai che è là come sto salendo troppo hype per sabato ma te abigail sei uno di quelli che ci sono visto mille volte infatti ah merda io pensavo fosse una ragnatela e non lo era è sempre bello poi tra l'altro abigail loro hanno anche il loro gruppetto quindi si vedono anche tra di loro eh sì lo so scusa mi sembra una sorpresa scoprire il pene delle donne lo è lo è anche io ora che hai visto che sono morto dimmi se quella cosa non sembrava effettivamente una solita ragnatela normale infatti ancora non ho visto che sei morto ma comunque si sembra una ragnatela e non lo è solo che non era abbastanza in hd di pregarti esatto esatto si riconosce da quello però mi spieghi come oh attacco ok perché devo liberarle di tutti sti cosi perché sennò c'è un casino incredibile con il copyright no è vero però più lo faccio come sono morto come non lo so io ancora non ho visto da stronzo è la risposta giusta ma quello è chiaro e non sta neanche ricaricando quindi facciamo un f3 ah però aspetta che ai 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 va bene non sono buono il suo ragno giustamente e come si fa bisogna andare tutto quanto però scusa no troppo troppo davvero troppo saldiamo qua in volo così poi salta qua non ho capito thunder thomas infatti perché cosa ha detto thunder thomas non riesco a capire chi è quell'uomo e chi è che viene il signore nessuno non so non ho capito la cheat dai cheat 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 ma ci mancherebbe altro antonello ci mancherebbe altro siamo in live praticamente tutte le sere siamo belli ti ha chiesto marco qual è il tuo presto preferito marco rispondi marco perché non risponde stasera se l'hai un po' preso e non parla con nessuno chiusatelo ma stasera è un po' così oggi è così ragazzi ci dispiace eh sì marco sta facendo la bella vita perché lui in verità anch'io dopo esco però ma stronzi mi lasciate da solo mamma mia se sei solo oggi oggi ho lavorato tutto il giorno ho lavorato tutto il giorno e quindi mi merito un'uscita mi merito un pezzo di merda perché sono stato bravo sono stato molto bravo perché ho quasi finito una parte del della demo che devo fare state giocando dall'emulatore sì non c'era l'opzione per strecciare io non l'ho trovata mi dispiace pranzo sì eh invece c'è spainixx twitch eh non mi sono incastrato i giochi sono stanco stasera va bene è stanco oh no un barco è morto è morto è morto è morto l'elezione elettronica da prendere vorrei fumare un po' meno non lo so perché per smith ce l'ha just fog q16 mi pare si chiami che è proprio entry level base base per iniziare costerà intorno a 20 euro massimo c'è anche pippo che adesso mi ha detto che che molla le sigarette normali per iniziare a provare a smettere passando da quelle elettroniche quindi mi segue no in verità l'avevo in verità l'aveva già fatto l'aveva già fatto quando stava ancora con la sua vecchia ragazza poi si sono mollati ed è andato tutto a puttane se stesse l'identica cosa mia praticamente pensa eh sì ho iniziato con la sigaretta elettronica dove ho fatto il boom che era tre anni fa ora mi spiegate però perché dovrei tornare indietro beh un attimo che mi sto perdendo roba sicuro la dietro però la gioia te cago ego io ho anche la elif i just s sono un pochino più avanzati sono da polmone serve solo per per andare a riprendersi le robe indietro in caso quindi ho fatto un passaggio assolutamente inutile ma guarda come sono bravo hai rotto hai rotto il caso ma che è il caso che è che è che è che è tac sono tornato subito sei proprio bravo che palle gli anelli con la faccia eh sì che palle i men alleluia it's ray man io sto colpendo qualcuno in tutta sta cosa ok ciao gringo c'è anche il laser e mark sì mark è tutto mogi in un angolino è tutto di ragno quello sì mi pinzella mi pinzella ma sono riuscito ad ucciderlo una cena da nicollu ah beh ricordiamo che abbiamo aperto il canale youtube delle live già da un pochino vero che palle ormai sono due mesi che l'abbiamo aperto vabbè noi continuiamo a dirlo lo teniamo aperto se qualcuno se qualcuno di voi trova più comodo è vero l'aumento che lo vediamo da una settimana esatto parche mojo jojo non lo so troppo che palle quindi se per caso non riuscite a vederle se qualcuno di voi trova più comodo youtube invece che che twitch per rivedere le live se avete voglia di rivederle c'è il canale vengono di solito ricaricate subito o quasi subito dopo essere finita la live a seconda di quanto ci mette esatto però appunto se vi perdete una live incredibile potete potete rivederla la oppure se avete appena visto una live incredibile addirittura subscribe fa vita 1990 appunto grazie mille saremmo in dubbia che il 90 fosse l'età scrivendo 1990 è giusto adesso sappiamo che l'età lo è è 90 è più anziano di me e quindi è 90 la paura la paura la grande paura perché mi ha dato due due cosi cosa cazzo ne so io i noti eh non lo so perché ce n'è uno intero che non secondo me non ha senso di esistere a meno che no non c'è nessuno a meno che ma non parla giusto corn eh sì la comodità di youtube per rivederle live ovviamente è superiore a quella di twitch soprattutto se la vedete la cellulare e beh sì ovviamente ahia dai marco di qualcosa però dai dai marco perché sennò qua è un cosino grazie marco quello lì vedi ma no ma povero dai marco grazie avete sentito c'è anche lui in live c'è anche lui appunto vi saluta tranne quello lì giustamente perché adesso perché l'ho un po' pregato io di più di dire qualcosa è vero che c'è la patch di overwatch da 2 giga come ma che quanto da 2 giga è quella di Halloween l'aggiornamento di Halloween porca puttana io me la scarico in un mese con sta connessione di oggi no ti hai sentito che Yahoo vuole comprare il tuo gioco per 100 euro addirittura beh 100 euro ciao cioè me lo tengo no che tratta poi anche magari qualcosa su gli acquisti su ogni acquisto ti danno una percentuale a quel punto è una cosa diversa ma per solo 100 euro me lo tengo con il mio gioco non lo ho capito io ci ho speso di più tra possibilità di mettere roba su green light eccetera e voglia se ci ho speso di più veramente su ps4 da 4 giga aspetta adesso la provo 4 giga porca puttana hanno fatto anche aggiornamenti questa questa battaglia è leggermente ripetitiva ma magari mi hanno già scaricato eh aspetta beh no esce alle 20 quindi è impossibile ma vaffanculo come esce alle 20 e doveva uscire alle 20 infatti ops si è verificato un problema riprova e invece a me è partito cioè sta computando le differenze pezzo di merda sta computando recupero tabella 101 euro a fare fatto ma cosa ma stai buono state buoni abbiamo visto il leak di sombra la leccata la leccata l'abbiamo vista abbiamo visto anche quelle che potrebbero essere le skin di halloween vero che alcune sembrano molte carine 1,35 giga dice comunque vabbè ci metti comunque due settimane si a voglia anche più ho messo 10 minuti per scaricarmi 100 mega quanto di verismo 150 mega di verismo perca puttana a me sono 1 giga 64 perchè ma buo avrà dei dlc no o forse il finale il finale sarà un dlc esatto il finale come in prince of persia il primo quello della nuova generazione quello orribile il finale è un dlc si ha già dentro le cose di halloween dovrebbero partire da domani e finire tutte 12 le skin si dovrebbe essere ah quindi sono tutte quelle che si sono viste nel fumetto esatto è solo che porca troia quanto durerà fino al primo novembre la cosa di halloween fino al primo novembre porca troia ma è poco e tre settimane avvenono da oggi tre settimane avete sì sì per subloccare tutte le casse se tipo lei dovesse crashare poi su youtube le parti di live vengono separate no le accorpiamo in un unico video esatto come è già successo tra l'altro e lo si nota se vedete la live lo si nota quando cambia eh sì è l'uomo vozza adesso ah grazie e comunque appunto c'è l'uomo vozza qua dobbiamo attivare un paio di cose ahia va bene arracciaco eh debis sono quelle che ho visto io bellissime ahia mi ha preso ma che sto se giochiamo a mafia ma inciampa su un laser non ha tanto senso sto scaricando sto scaricando a 188 kilobyte al secondo beh io continuo a dire che non ha tanto senso come cosa visto che sta inciampando su un laser però ok mamma mia ormai guarda che il laser è è sdrucciolevole ovviamente l'uomo vozza questo sì sì a posto gg buttato giù un boss raymond sei il migliore del migliore allora quindi diciamo una volta per tutto lost è semplicemente se voi andate siete sulla pagina del gatto di twitch in automatico vi parte la nostra live cioè sul suo canale viene visualizzata la nostra live quindi è comodo ad esempio noi quando finiamo qua ad esempio stiamo gatto quindi parte in automatico quella del gatto mica non è un po troppo banale Manu che gioca a mafia che falla e per bene controlli il bene vedo se c'è la priglia no dottore bene sento cosa dici moro perché appunto grazie mille ma sta sta facendo stai facendo io stavo per dire qualcosa ah no sì in stile a 6 minuti di gioco sei DLC e vabbè no però vorrei farlo con almeno un paio di finali e adesso mentre stavo montando la prima parte del gioco quella che adesso dovrò andare a a testare ho oltretutto ideato anche uno dei finali che si può fare già nella prima mappa e sono felice sono tanto felice no, la chat non cambia cioè se rimanete qui e noi stiamo gatto comunque scrivete sulla nostra chat non viene fusa assieme all'altro no, infatti, sfortunatamente però perché non è il ma cioè sarebbe bello anche che le chat si unissero e per bene, li controlli bene veda se ce l'ha più lungo del mio no, dottore aperitivino eh sì attenzione mi è salito il download a 239 239 kilobyte al secondo è troppo attenzione quindi, quindi mamma mia dove sono i miei moltissimi 700 kilobyte al secondo ma dopo ti conviene spostare leggermente più in alto le cose delle sub le cose delle sub quale? perché compare il messaggio che secondo loro è cancellato cioè viene tagliato ah aspetta dimmi 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 proprio leggermente proprio leggerissimamente più sub ma forse anche io devo spostarlo più in alto che mi sa che non si legge neanche da noi voilà l'ho appena spostato non ci ho mai fatto caso leggermente più in alto così eh no, l'ho visto adesso perché l'ha tagliato ma devo vedere anche da noi non dovrebbero esserci problemi ora ma no, adesso devi fare la limited di cosa? che poi alla fine magari c'è un gioco di merdissima il mio gioco, dici un bel po' un gioco di merdissima tutto di cacca tutto fatto squizzo e poi niente c'è robe strane con la limited con le statue di fango probabile molto probabile la live cioè dice che siamo in live però non riesco a caricarla quindi niente ma... wasabi se... in caso anche si perché sono... non l'ho mai giocato però me ne hanno parlato bene le ultime volte che abbiamo fatto qua il due live è terra dei rose è stato lato quello mh? hai tumore? è l'exalding che ha donato un euro e cinquanta e che dice twitch mi ha bannato per due ore da tutte le chat per spam nella chat di uno streamer che fa guitar hero dove spammavamo il ricornero di una canzone un'altra terra dei rose va bene e poi un'altra donazione di sono maga che donated 3 ore 33 dice sera bella gente buon non compleanno a voi grazie mille il nostro non compleanno quindi tutti i giorni adesso tranne il compleanno e si e funziona così il non compleanno ok lo metto in pausa un attimo che aver 3000 di ping non è il massimo non è il massimo no avete visto l'ultimo video di Corridor Digital? si ah si? qual'è? ha fatto GTA VR con l'attore quello che ha fatto Trevor l'ho visto nella home ma non l'ho guardato con Steve Nobby e sono secondo me sono calati un pochino qualitativamente come qualità degli effetti in Corridorio Distel dici? eh boh o che siamo abituati a roba più bella ormai loro sono rimasti sempre sempre là più o meno può essere o comunque si vede che facendo adesso lavorando anche per altre robe non hanno tanto tempo dice ci perdo meno tempo per i video che sono comunque belli può essere può anche essere si ma il Bundy Green Day no ma quindi ai notti il tuo gioco esce prima di Half-Life o no chissà chissà speriamo chissà magari Half-Life magari il mio gioco è Half-Life ti immagini? ma no sai che storia di che storia? saresti ricco sarei ricco potresti farmi diventare ricco potrei dai oppure potrei non farlo dai eh io volevo fare una vita da nulla facente da nulla facente questo è il video del Vapenation di H3H3 Production ma fa cagare mi sa che l'ho visto fa cagare fa mi pare che poi l'avevo guardato che mi avevo spaccato le balle con questo video di H3H3 ma do una live su Guitar Hero prima o poi la faccio ragazzi prima o poi la faccio molto volentieri se si riesce è un po' un casino in verità perché devo comunque attaccare la Playstation 2 però in caso se si riesce lo faccio e mi muto durante le canzoni perché sennò sentite solo toc 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 però se riesco sì dai corre corre salta questo H3H3 è lui che va in giro a rompere le balle alla gente che succede? è lui che va in giro a rompere le balle no prof se non ce ne sono lì di questo qui dove in giro non per le balle alla gente mentre svappa ma che balle se non ho capito mi fa un video di merda voilà ando ok esploso e saliamo se sale ok se anche Rocksmith ciao Mr. White Shadow Rocksmith è quello con la chitarra effettivamente la chitarra sì un pezzetto di buccia dell'uva incastrato in un dente che mi dà un fastidio guarda ci vede che stiamo arrivando nel covo dei pirati che ci sono pirati ogni due secondi non lo so ci sono pirati ci sono pirati ogni due secondi non segui le live dei termosifoni moro? no non mi piacciono hai ragione c'è gente noiosa cosa? eh vedi mi sa che Overwatch a ognuno gli scarica una pass diversa no forse forse perché vi ha scaricato dei pezzetti di patch in background probabile poi io c'ho l'impostazione che mi scarica a bassa velocità aspetta aspetta rispondiamo un po' alle domande che ci sono della Games Week sì spero il fatto che ci saranno i due Pokémon impronotabili a 20 euro questo è confermato attenzione mi hanno dato i grandi soldi ma ho saltato mesi di live che dite mi scuso festeggiamo cosa aspetto vai vai a posto finito grazie mille e perché c'era il messaggio lo stava leggendo grazie cavolo festeggiamo figurati a parte che non ti devi non ti devi scusare di niente però grazie festeggiamo vado mignotto ma no davvero eh no però signor fence con l'ai fence con l'ai grazie mille grazie mille 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 grazie mille mille grazie finiamo nella mongolfiera che se ne è un casino beh comunque ritornando al discorso di prima sì ci sono i Pokémon c'è Pokémon per una tabella a 20 euro e i biglietti si possono prendere tranquillamente alla biglietteria della Games Week sì ma non è che dovete prenderli per forza prima sul sito e porca vacca io non sono ancora deciso se comprarmi uno sto cazzo di 3DS perché probabilmente ci giocherai solo Pokémon e basta vedo che che sei ci sei anche per il lato gameplay White ah sì metti a posto il top Donuts si è vero scusate voilà grazie millo ma sapete che questa parte non me la ricordo per niente di Rayman ma proprio per nulla ah cavolo è vero che questo ti insegue non puoi farci nulla e ti ahia anche io voglio rubare un 3DS riformatorio per bambini turbolenti potrebbe essere il 3DS il 3DS il 3DS 99 euro cos'è come l'anno scorso e considerando che già adesso il 3DS è in vendita 99 euro negli 1 euro lo è già in vendita a quel prezzo probabilmente la chiesa vita sarà a quel prezzo o anche meno ora non so quale 3DS beh se non c'è bisogno prenderli lì non è detto non ho scuso le PlayStation li devi solo prenotare no per i giochi si è solo prenotare la scorsa ad esempio noi abbiamo preso la Play e siamo usciti a prenderla tutti tranquillamente tranne io che non ho soldi 2DS me lo infili in culo Marv no 2DS no non c'è appunto per chi deve prendere prende l'ultimo 3DS no Alex Aldi grazie ma non appunto non so io me lo prenderei anche nuovo non è il problema i soldi il problema è dei soldi spesi per un gazzo no ok chi va di e prenota Pokémon si ricordi che comunque poi ovviamente dovete prenderlo in 1 euro ma Moro ok stiamo scherzando ma devi andare all'1 euro quindi Moro stiamo scherzando ma non sto scherzando io sono solo no tu non stai vedendo cosa devo fare no che non sto vedendo stiamo chiara no no stiamo stiamo chiaramente scherzando te lo dico io no lo so io sei un burlone ma a me non fa tanto ridere quello che dovevo fare sto volando ok sono morto tra l'altro sto sentendo l'audio non mica vedo ho una segna no è una cosa incredibile è una cosa incredibile da fare no però ok il 2DS non è così male però se lo trovi in offerta a sto punto ti prendi direttamente il 3DS cioè non ha senso prendere il 2DS il 2DS si trova tranquillamente a 50 euro adesso si dov'è l'interruttore uno è là e come ci arrivo là è complichello eh c'è stato un po' di diatriba sui nuovi pokemon alcuni sono belli altri fa veramente cagare abbastanza ecco come come sempre tanto però il gioco sembra veramente bello no quello più stupido che abbiamo quasi concordato tutti è quello a forma di castello di salvia castello di sabbia cioè quello no no quello più stupido è il loro sacchiotto gay anche vabbè ok il pedober però quello con il castello di sabbia forse il castello di sabbia però in prima posizione c'è sempre il pedober che non ha un cazzo il pedober è pesantino non serve proprio a niente che cazzo vuol dire non lo so molti sono belli comunque se ci porta una focaccia tipica sarebbe una di quelle cose che preferiresti no no invece si ce la mangeremo al momento esatto saremmo felici anche perché non pranzeremo quindi allora non pranzo immagino non sia questo il cosa da attivare no infatti sono morto no alla games week i giochi in ps4 se fanno come l'anno scorso erano prenotabili a 35 euro anche quelli xbox tutti quelli in uscita dentro fin'anno mi guardo e gli al momento non mi ricordo poi dipende dai giochi c'era c'era bloodworn ah ma così proprio di cattiveria devo iniziare a correre mi butto non lo so non capisco cosa devo fare non riesco a trovare una rampa per spostarmi l'asino l'asino amaro è figo cioè a me è piaciuto è un asino si trasforma in un lo stallone di fuoco un putnamaro sono morto che poi noi voi parlate in modo normale no ma noi dobbiamo anche confrontarci con la cichibe che mamma mia ragazzi è la cosa più figa che abbiano mai fatto per tutta la vita ma tantissimo proprio tanto over united una forma di parmigiano reggiano beh va bene sarà un po' difficile ma dove te l'hai il figlio però vabbè però una forma intera la fai rotolare la vuoi come ruota della macchina ok 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 ahhh è un casino starter mi piacciono beh sì no un ruolo di fuoco carino stavo volando in realtà guardandolo anche malgioglio non mi dispiace non la prima evoluzione è il modo corretto per approcciarsi a voi senza essere troppo invasivi venite lì e ci salutate esatto basta che venite là e ci salutate in modo tranquillo ma tanto saremo lì tutti in gruppone saremo qui saremo facili da saremo facili da approcciare ragazzi tranquilli esatto poi si porta un sacchettino di caramelle è ancora più facile è una sala non è proprio hai not i biscotti hai i biscotti ciò più biscotti tonight ciò più biscotti tonight come fa a correre questa cosa in aria però vabbè è normale che poi ci resto secco io non si può controllare sto cosa tra l'altro il boss finale non l'ho mai finito questo gioco non l'ho mai finito perché il boss finale da quello che mi ricordo c'ha robe del genere da fare da quel poco che mi ricordo quello è attivo ma tu alexandri sei un criminale di merda un criminale di merda sa che non arrivate come l'anno scorso che vi spariamo sta esatto fare il casino sti maiali ed è vero mamma mia schifosi stavolta ha detto sono in 30 ma non deve andare a far più si anche a me l'ha detto quindi ecco calmini tutti intanto anche perché è leggermente più incasinata rispetto alla kartoumix la game switch quindi sì sì io voglio fare una svappata di gruppo incredibile è solo tu parlo tra quelli con quei eh no ce n'è qualcuno che svappa mamma mia gianfilippa va bene va bene approccia approccia non lo so io approccia approccia approcci ah no allora forse mi ricordavo questa parte che era assurda probabilmente molto probabilmente si vede che è donna perché rosa e ha un fiocco lo sai moro lo sai no perché io non vedo la live la nintendo non la pensa così perché hanno un personaggio rosa e con un fiocco che in verità è un uomo lo sai effettivamente eh non puoi solo far le siga avere non va bene a parte che come si fa insegnami no signor ruasabi i brutti ma buoni sono buoni ma brutti ma buoni bene no se no effettivamente buoni tu 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 non ti fanno neanche entrare in fiera no infatti no ma poi non ti fanno neanche entrare in fiera con le nuove come di sicurezza eh no finalmente la maschera bravo donna quanto è inquietante ma non salvavi i cosetti rosa povero birdo interessante si chiama ugo vero in otto il mio cane parli che svapo ero tutto sdraiato ero sdraio no signor wasabi il signor wasabi wasabi invece lo youtube sarai tu abbattere sulla nave frigio e ti darò il massimo dell'energia di tale quanto è inquietante quello qui da piccolo mi piaceva paurissimo troppo che cazzo vuol dire che c'è le braccia lunghe fanculo ma non lo so io facciamo le partite una partita tt con le armi disegnate di un foglio lc4 come le facciamo è un casino eh si disegnano pure quelle però che devi stare lì decidi di mettere uno che cambia ogni secondo il foglio ogni secondo che ha il foglio della ora mi schiaccia e mi uccide che poi io ho preso queste quattro maschere per questo essere celestiale che mamma mia picchia il mondo e poi dovevo fare io devo andare io a battere il boss finale non ho capito cioè ho già fatto già ti ho preso le maschere dovevo anche battere il boss e tu che cazzo serve non ho capito è simpatico dai simpatico con con le mani tutte lunghe amazon prank il gioco ti da adesso da streamline poi tecnicamente ogni giorno ogni mese dovrebbe dare un gioco non si sa quale mi renderemo un po' infatti tu un vostro fan che fa ognuno ha il suo ruolo c'è chi fa la c4 c'è chi fa la c4 le armi siete voi evolution come l'ho detto e lo suo kid è anche quello rinquietante di zelda pensa ma hanno dei dei doppiatori incredibili cioè oddio a parte che io devo star zitto perché boh avrà sarà doppiato da me quindi però questo è lo doppio io ho già avuto esperienze no dai dai in breve fa tutto tranne lavare i piatti però potevi altro io potrei fare fare adesso dimmi metal gorsoli 2 in live ma è brutto metal gorsoli 2 allora raiden scivola sulle cacchie di piccione va bene ma donda si scivolano le cacchie di piccione scivola cade di sotto e muore va bene perché non è buono a non scivolare sulle cacchie di piccione stiamo parlando davvero? e dice c'è una piattaforma nell'oceano con tutta l'umidità dell'oceano e la cacchie di piccione diventa scivolosissima tu non lo sai adesso scivolosissima cosa vuol dire Marlo? come ho fatto a non morire? facciamo la guerra praticamente con le bic e tiriamo le palline di carta ci sputacchiamo addosso tipo cosa? mi ricordo alle media ne ho fatta una poi le palline di carta le bagnavo e poi le compressavo tantissimo ahia però lo spanno malissimo sparavo nel collo nel collo ai miei amici faceva malissimo ti credo che rimaneva il segnetto rosso ma ti credo la pressione tantissima mamma mia quanto ero MacGyver a scuola io abbastanza tra questo le marmitte di carta eccetera ecco ce l'ho ancora io ho ancora il mio portatabacco con cartine filtri e tabacco dietro lo schermo del pc ce l'ho qui davanti da quando ho smesso e lì non l'ho mai più toccato quanto pericoloso ma stronzi cosa ma stronzi? hai detto noi tappezzavamo i muri con le palline sbavatissime ma cosa? no venerdì sera non faremo la live non ci siamo no non ci siamo ma io a Mark ci siamo in realtà vabbè volendo potete fare una live pre games week anche Corvo c'era eh vedete voi alla fine mancate voi che tanto di solito non ci siete lo stesso quindi è vero per scivolare di lato non lo so vedremo magari entriamo non sto scivolando di lato no è una cosa troppo complicata in quel momento quindi facciamo una live noi dall'albergo fanculo è vero siamo dalla roba non sta ok 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 ora di qua e poi di giù aia però è troppo incasinato sto level design va bene non dirmi che con R1 L1 L2 scivolo sulla sinistra o sulla destra perché non scivolo un ca faccio solo niente sono morto ma come che cazzo è l'abirintico di merda è un casino moro come funzionano le prospettive ma non lo so io eh certo devo andare eh vabbè qua moro praticamente equivale a Luke che deve tirare a livello no no questo è a livello di cool award mamma mia cosa mi hai tirato fuori questo è Luke che deve andare a a distruggere la morte nera eh sì questo è però da lui era dritta però da lui era dritta deve solo buttare il missile che poi fa una bella deviazione di 90 gradi in giù non so come ma vabbè esatto praticamente è una merda star wars ma non dire non dire moro che poi sei eh vabbè sia io ma a parte che davvero questo è preso pesantemente da star wars guarda non è vero eh guarda adesso prima ero in una nave pirata adesso sono davvero nella morte nera eh non lo so non lo vedo ancora e gira 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 ma non scivola quindi è tutto il contrario di raiden il livello di tombraider 4 sott'acqua esiste tombraider tu a barrel roll ah perché l'ho fatto che tra l'altro per chi segue matpat saprà che il barrel roll non è questo lo sapevi? lo sapevi che il barrel roll non è quello che non si chiama così eh no si chiama tipo è qualcosa roll che non penso che non ti aiuti a capire però appunto non si chiama barrel roll ci hanno mentito è sfatuto contro un lampadario però si un bel po' ci hanno mentito tutto questo tempo ah ma che palle di nuovo pensavo si dovesse non capivo non capivo se si doveva passare sotto o sopra peccato che non posso tipo accelerare aspetta un'azambi che lo ricupero ah ah allora io ho smesso di fumare di bot però però non ero non fumavo tantissimo cioè ne fumavo otto al giorno massimo poi magari qualcosina di più nel sabato o la domenica quando uscivo però si ho smesso di bot non è stata dura con la sigaretta elettronica perché appunto ma si lo sbappavo quindi ma di bot senza senza nicotina no con la nicotina ok poca però non sono buono non sono buono non ce la fa non ce la fa c'è un casino si muove io su su Harry Potter esatto si è andato dritto lì e vabbè si lì era andato dritto è morto tutto no ragazzi voi non capite la difficoltà di movimenti di sto coso a parte che è un razzo che prima correva adesso ha semplicemente allargato le gambe e vola quindi va bene come è il peno avevo letto se ho dei parti beh anche il sabato se ho ok è incredibilmente incasinato aspetta che proviamo a fare così e così non sono sul soffitto tecnicamente e sono giusto tecnicamente quindi ora giriamo perfetto forse sono sul soffitto non capisco e certo c'è certo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta no ora guarda l'ultima stanza ora guarda l'ultima stanza e dimmi a cosa serve non posso guardare adesso l'ultima stanza se indietro eh aiuto aiuto eh cosa è eh ora 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 eh guarda ah ma le lampade eh qua perché tutte quelle lampade non lo spieghi non lo spieghi è una stanza molto illuminata eh vabbè guarda che sto liberando tutti che sono tutti felici allora sarebbe una cosa fattibile se tu che non fumi passassi all'elettronica e lo fai senza nicotina esatto ok con i liquidi senza nicotina non fa praticamente niente sigarette elettronica quindi beh puoi provare è una cosa che ti viene così per passione ma è sempre una spesa quindi vedi te è Antonio nome facile anche io ho appunto iniziato quando c'è stato il boom delle sigarette elettroniche però quelle che ci sono adesso sono una cosa totalmente diversa presente in gole buonasera mimmi bentornata ok no dai che che ora è non lo so sentite anche di sto spray che è uscito adesso dai proviamo a batterlo vediamo per passare la voglia di fumare credo che sia uno spray con della nicotina semplicemente penso di sì non so se funziona perché sinceramente la nicotina è quello che dà dipendenza però è anche vero che c'è tutto il rito della sigaretta la gestualità con le robe lì e beh sì certo non so uno spray poi magari funziona proprio non so esatto alle inghi non ha come mi ha tirato una palla di cannone che in verità era una texture attaccata e che viaggiava bellissimo sono felice per me è stato anche cioè mi sono fissato con sta roba e mi sono eh eh ti sei ho speso una baracca di soldi eh sì ok vediamo di battere questa cosa in tre minuti cosa assolutamente fattibile mi dicono soprattutto se non prende le bombe devo rispedirle entro un minuto no no tre tre ahia mi ha schiacciato ok il profex anche lo spray da spruzzare singolo per non aver più voglia di far sesso che ti fa pensare di aver fatto sesso e sei contento ah eh sì esiste eh eh sì oh ok 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 bello che cerca di schiacciarti due volte poi basta perché è a posto mi sono un drippato con i dripper ahah eh eh ah madonna sto rumore di vento dà un fastidio eh sì il pit è l'abitudine cioè metti con la segreta elettronica cioè mica finisci le cartine dico vero finisci magari magari devi magari devi fermarti montarla per bagnare il dripper però eh però adesso dici sono le nove di sera i tabaccai sono chiusi come faccio e non puoi farlo e dopo diventi tutto scemo pagliaccio eh ma sono già alla seconda fase e questo non ero riferito a nessun corn non è vero non sono alla seconda fase mai scusa corn comunque dobbiamo chiudere i notti vedi il vercio vedi eh vabbè ma vedi il cazzo di vercio manca poco ma cosa hai fatto un decimo di boss eh ma in verità adesso c'è zigo zago vedi e fa le cose non si sbriga eh vabbè non è colpa mia se non si sbriga eh scusa corn madonna queste scene eh adesso prendere un bricchetto di di succo di frutta girarci il tabacco e fumarti il tetra comunque no io non fumo Tommy no un'altra sessione in cui devo volare stiamo scherzando vabbè dai buon notte in hot no vabbè proviamoci ma cosa no perché è vero gatto dopo ci uccide aspetta premo f1 razorberd è quasi battuto lo batteremo la prossima volta va bene poi inizieremo subito raiman 3 diciamo così beh grazie per essere passati a domani e grazie per le donazioni su grazie mille per la donazione e in generale di parte le donazioni solo per quella ringrazio ho detto in generale per tutte le donazioni quindi grazie a domani ciao 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 eh finiamo con rem così che si gira ciao